Sei pronto per una battaglia epica? È in edicola il primo battle card game di Steff e Pere. Two players, one console, con card e video in esclusiva. Unisciti a loro, sfida i tuoi amici e vinci la Coppa Campioncino. E con le card che brillano al buio, sei invincibile. Le trovi solo con i braccialetti.